salve a tutti bentornati su polvere fumetti e come ben vedete oggi sono in in ottima compagnia devo c'è un po il cuore che batte perché sono in compagnia di lorenzo ceccotti lrnz lorenz che che qua con noi oggi ciao lorenzo come stai benissimo grazie dell'invito bene senti intanto per romper un po il ghiaccio ti faccio questo piccolo complimento perché mi sono visto un po di dirette di interviste così e tu hai questa capacità lo stai facendo anche adesso di guardare dritto in camera una cosa che per esempio noi cioè io faccio veramente a fatica perché ti ho la telecamera lì quindi c'è questo guarda ti posso svelare un segreto e cioè che io invece ti ho qui qua sotto perché io ti guardo nella mia tavoletta grafica dove disegno normalmente e quindi oppure ti potrei avere qua sopra su un altro display che va al di là della camera banalmente per non fare impazzire la gente ho proprio imparato dove fare un po un esercizio disciplina guardare dove non sei tu e quindi per me è una specie di intervista radiofonica questa riuscirò a vedere tema perché mi sembra giusto diciamo per gli spettatori guardare in camera allora verso la fine del 2021 verso la fine dell'anno scorso tu sei tornato in fumetteria libreria con geist machine sono un fumetto che hai pubblicato con bao che è stato presentato tra l'altro in in occasione della scorsa edizione di di lucca comics quindi dopo siamo tornati in fiera dopo insomma un periodo piuttosto travagliato qui ci siamo ovviamente ancora adesso quindi come è stato tornare in fiera prima di tutto e poi come andato ovviamente la la presentazione del libro allora sono solo cose positive per dire nel senso che da un lato io mentre facevo geist machine che ricordiamoci una lavorazione che è durata più o meno un anno e mezzo un anno operativamente diciamo c'erano queste notizie che dicevano si farà lucca non si farà lucca le fiere chiudono tutte riaprono quindi c'è stato un tira e molla continuo anche con la fine del primo lockdown il secondo lockdown quindi ovviamente io ero molto preoccupato perché anche semplicemente da un punto di vista emotivo proprio mio personale l'idea che ovviamente è il più banale dei motivi se vogliamo poi ci sono alcuni che sono molto significativi sono proprio pratici pragmatici l'idea di fare un libro che mi è costato così tanto tempo eccetera e non avere modo di portarlo fuori al pubblico contanto era una roba che mi preoccupava tantissimo e la fortuna come dire ha voluto che io sono arrivato proprio al pelo con la consegna perché fino all'ultimo secondo sembra che non si facesse lucca quindi mi ero completamente rilassato no a livello produttivo dico vabbè tanto non se ne farà nulla invece quando mi hanno detto che si poteva fare ho fatto una specie di rush micidiale legacy 60 pagine colorate in meno di una settimana quindi ho fatto proprio i botti per riuscire a chiudere il libro e l'ho fatto perché per me lucca è una specie di metronomo della mia carriera per certi versi e saltarla sarebbe stata proprio una tragedia per me da un punto di vista proprio interiore nel senso poi da un punto di vista pratico ovviamente lucca garantisce anche delle vendite importantissime di essere visibile da un pubblico molto variegato perché lucca c'è questa posizione strategica da sopra e da sotto in italia quindi insomma lucca proprio una roba che non andrebbe saltata mai non ultimo è proprio un posto a cui sono affezionatissimo mi piace che i miei libri escono lì per infinità di motivi ok quindi devo dire che mi sono sentito proprio fortunatissimo essere stato in questa batteria no di libri che sono usciti per il ritorno no alle fiere in presenza quindi fantastico quello e il lancio è andato particolarmente bene perché mi ricordo che il primo giorno di lucca a mezzogiorno ha registrato che era un giovedì mi pare ha registrato il tutto esaurito di guest machine per questo non dovevo andare a prendere altre copie sono arrivate da milano direttamente quindi complice il fatto che c'era uno stand bellissimo tutto decorato la grafica di guest cosa che io peraltro non sapevo sono arrivato a lucca la notte prima sono passato questo mega disegno c'erano i tendoni sai chiusi ci sbircia tutto fammi tersi vedere lo stand di bao mi ha preso un colpo e e quindi sì è andato molto bene a lucca ed è andato benissimo poi perché è già finito dalla prima tiratura di aver del libro siamo già la seconda alla prima di stato grande penso che sia un ottima soddisfazione insomma beh sì no no è ovviamente quando fai un libro devi fare conti col fatto che è molto probabile che non sarà necessariamente una roba che va molto bene diciamo le probabilità sono veramente basse no che un libro venda così bene quindi sono stato molto fortunato bene bene siamo siamo molto contenti io partirei a chiacchierare con te di gas machine è proprio da dal titolo perché di recente pensando un po alle domande da farti ho fatto caso a questa cosa che ripeto partendo già dal titolo gas machine che correggimi se sbaglio sono guys dal tedesco dovrebbe essere spirito fantasma e machine ovviamente macchina la prima associazione mentale che ho fatto è stata ovviamente con con ghost in the shell dove che so che è una cosa a cui tu sei molto molto legato dove si proprio si snocciola tutto il rapporto fra l'uomo la macchina la tecnologia effettivamente sono anche delle delle tematiche che insomma in gas machine perlomeno in questo primo libro perché sappiamo che sarà già una una serie di tre volumi insomma si vede già afferno già prepotentemente insomma per cui possiamo dire io so che non è propriamente così ma possiamo dire che gas machine è un fumetto di fantascienza perché so che appunto potrebbe non essere proprio così sia una strana via di mezzo secondo me perché allora intanto ti rispondo su su ghost in the shell sulle parole magiche insomma che stanno dentro al titolo di gas machine e dunque io al primo contatto in queste due parole una dietro l'altra ce l'ho avuta non con ghost in the shell ma con ghost in the machine che è un disco dei police e che ha peraltro questa grafica bellissima con i ritratti dei tre musicisti fatti nelle cd con look un po da roggio da polso con i cristalloni liquidi rossi e però ovviamente sono gaist e machine in tedesco soprattutto hanno due sono due parole che hanno una fortissima intenzione di linguaggio filosofico e la parola gaist come dire è una parola interessantissima in filosofia perché ha mille aspetti no significa l'anima ma significa anche lo spirito è anche inteso come spirito ad esempio nella parola zeitgeist si dice lo spirito del tempo no per dire ha un senso di intelligenza collettiva no quindi il concetto di base come l'anima del del mondo alla fine dell'umanità ed è inteso un po in questo senso la gaist machine all'interno di gaist machine è un dispositivo cioè un oggetto che in linea teorica proprio questa funzione qui cioè quella di intercettare lo spirito del mondo no quindi e in qualche modo ha a che fare con ghost in the shell perché ghost in the shell anche a che fare no con intelligenze collettive da un altro punto di vista no se prendi il puppet master di diciamo del primo ghost in the shell di hoshi no ha un'idea dietro che è esaltata no nella sua natura filosofica l'idea del corpo dell'anima della singolarità di tutte quelle robe lì insomma io trovo che siano collegati in una maniera completamente diversa ma inequivocabilmente come dire c'è una sovrapponibilità che vuole essere anche un altro punto di vista su quelle due parole no cioè quindi a me piace molto quando leggo un'opera d'arte quando guardo un'opera d'arte non so quando interagisco con il fruitore quando fluisco ecco di un'opera d'arte che sta in una sorta di dialogo con le altre opere no e quindi io sono molto consapevole sai si dice sempre questa frase un po fatta no che non ci si può più inventare niente che tutto è stato detto io non ci credo a questa cosa qua però credo che è bene che quando ti avvicini a una roba che è stata detta ok quando ci fassi vicino la carezzi o semplicemente anche hai un l'idea no di di affrontare in maniera più originale possibile la stessa tematica devi essere consapevole che sei in dialogo con quelle opere lo devi proprio sapere e quindi sicuramente come dire ho fatto un un ragionamento sul significato di quelle due parole per altri artisti e poi mi avevi chiesto perdonami mi sono perso se si può dire che effettivamente gas machine sia un fumetto di fantascienza perché a quanto mi è sembrato di capire non è proprio così sì allora dunque è particolare come cosa nel senso che gas machine dipende se gli assi del tempo che vogliamo porre no per analizzare una cosa di fantascienza sono locali o assoluti se li mettiamo locali ovvero in testa e personaggi che come piace ragionare a me è interessante perché questi ragazzi vivono in una roma in cui trovano tracce di una civiltà lontana e questa civiltà lontana di questa civiltà lontana non sanno nulla non sanno come funziona tecnologia non sanno noi a che punto eravamo di evoluzione quindi tecnicamente vivono le tracce di questa civiltà che è la nostra attuale in realtà un po più nel futuro della nostra cioè la nostra fantascienza loro la vivono come una vestigia del passato e quindi mi intrigava il fatto che tutto sommato anche la tecnologia per loro risulta una magia e quindi a conti fatti sono più gli stilemi del fantasy che non quelli della fantascienza se vai a vedere cioè c'è della tecnologia c'è il nostro futuro dal nostro punto di vista ma non c'è quella chiarezza no su la natura tecnologica delle cose nella testa dei personaggi che puoi avere ad esempio in un fumetto cyberpunk come Ghost in the Shell no in cui loro sono tutti consapevoli di come funzionano le macchine di come funziona il robot perché si muovono da dove arriva l'energia e questa roba qui i miei ragazzini non hanno minimamente idea sono due primitivi che si trovano davanti a un dispositivo militare abbandonato che poi fa tutta una serie di cose come dire completamente fuori dalla loro comprensione eh sì cioè nel senso non ci arrivano proprio a capire perché succede quella roba si fanno un'idea ma se la fanno in una maniera molto come dire appunto primitiva come se fosse magia questa è una cosa che a me piace molto piace un concetto che sono molto legato al fantasy proprio alla magia però queste commissioni mi mi attirano veramente molto tra l'altro io so che una cosa che anche qua mi ha colpito molto ragionando dopo è che tu per lavorare a guys machine hai anche sei anche andato in questo istituto di tecnologia di di genova se non mi sbaglio per riassumendo per scoprire che i robot all'interno sono essenzialmente vuoti no sono motori cavi corregimi anche quasi se sbaglio però una cosa che mi ha colpito tantissimo è che a livello suo è un po' filosofico il robot in cui i protagonisti poi vivono che si chiama immel se non mi ricordo male certo il fatto non è vuoto anzi è pieno di vita perché ci sono i protagonisti addirittura c'è questa che è un'immagine bellissima del fumetto che è questo albero se vuoi secolare che mi piace questa immagine proprio dell'albero che gli ha lacerato le lamiere cresciute al suo interno una cosa che mi è mi è piaciuta mi è piaciuta veramente molto proprio come come immagine se se vuoi aggiungere qualcosa riguardo proprio anche questo studio che hai fatto a genova sì guarda quello che posso dirti che io quando ho scritto guest machine ho iniziato a buttare giù le idee no su come lo volevo strutturare tanto tempo fa e tant'è che la prima proposta su guest machine baola ricevuta nel 2013 è vero si parla tanto tempo di guest machine è passato un sacco di tempo e all'inizio io avevo un problema e cioè che non riuscivo a trovare una bella configurazione no per le location di questo libro perché avevo quest'idea del relitto avevo l'idea che ci avrebbero interagito però non mi piaceva come avevo risolto anche il fatto che loro andassero abitare no in uno spazio che era altro perché all'inizio c'era quest'idea qui perché io pensavo al mio robot ancora con questa logica un po anni 90 diciamo così dei robot intesi come e 70 80 90 sono tutti permeati da quest'idea di robot che sono come dire delle lamiere che chiudono tantissima tecnologia incomprensibile no se vedi come dire i anche i meca classici no di da gundam in poi anche lo stesso ma zingano nella sigla c'è quello spaccato del robot che è pieno di roba dentro e e quindi come dire non ci pensavo proprio al fatto che fosse potesse essere vuoto francamente poi andando a ragionare su come funziona la robotica veramente è venuta fuori questa cosa interessante cioè che i robot umanoidi a misura d'uomo ecco o più piccoli ovviamente hanno questi giunti motorizzati che sono collegati che sono diciamo in ogni articolazione quindi spalla gomito e polso ad esempio per fare esempio dei primi tre che mi vengono in mente e questi motori che uniscono i vari giunti hanno un asse di rotazione sono disposti di solito a rotazione 90 gradi rispetto all'altro per avere per sommare no gli assi di libertà e fra un motore e l'altro l'unica cosa l'unica informazione che passa è un filo di alimentazione e un filo dati l'equivalente diciamo di un cavo sb molto sofisticato però banalmente così e questo significa che negli spazi diciamo che intercorrono fra i due giunti l'elemento che noi vediamo che un braccio che ci sembra pieno in realtà è tecnicamente un esoscheletro cioè è un elemento strutturale che dà corpo al robot perché sono degli oggetti solito di alluminio scavati dal pieno quindi super resistenti ma che sono completamente vuoti all'interno per rendere anche più leggero il corpo del robot perché il robot ovviamente più pesa no più deve faticare con i giunti per spostare le sue articolazioni e quindi poi diventa come dire è dispendioso in termini di batteria power management e quant'altro questo significa però che mentre su un robot come dicevo piccolo a dimensione umana ad esempio per dire la parte logica di un robot le schede madri gli alimentatori e tutta questa roba qui che servono a tenere viva l'elettronica sono grandi rispetto al corpo di un robot perché si tratta di infilarci immagini l'equivalente più o meno di un case di un paio di computer ok dentro al corpo di un robot come se fosse un computer di quelli desktop se tu fai crescere il corpo l'elettronica non è che cresce rimane sempre quella rimane sempre quella e questo significa che si creano degli spazi giganteschi all'interno di un robot come email e quindi mi sono ritrovato con la massima fortuna possibile a mi sono ritrovato a rispettare una delle regole che volevo utilizzare per gas machine che è una regola che si dava a Hitchcock alla fine che era quella di partire dalle location per scrivere le storie diciamo quella sofferenza che avevo su su generare una location che fosse che conoscessi a meno dito che fosse in grado proprio di di esaltare con la storia si è finalmente l'occasione si è finalmente presentata proprio grazie a questa rivelazione che ho avuto analizzando appunto i robot presso l'IT e io parlo con l'IT ho avuto modo di seguire anche un piccolo workshop che l'IT ha fatto durante la design week all'ISIA di Roma dove insegno quindi ho messo in contatto i due istituti e quindi ho partecipato come docente ma in realtà stavo lì come super studente a imparare tutto quello che potevo e e quindi sì c'è un'idea diciamo del mega design completamente diverso da quello che su cui mi sono formato alla fine è una roba un po' nuova anche per me devo dire che mi sono molto emozionato nel sentire il lead of humanoid robotics di IT dire durante la nostra presentazione a Genova Lorenzo Baccellieri dire che le sue che era rimasto colpito dal fatto che le conclusioni a cui sono arrivato su un sacco di cose che sono un visto a dire ma che lui ha visto perfettamente e non solo sono verosimili ma sono anche interessantissime cioè proprio quindi devo dire che è stata una roba molto 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 appagante il lavoro su sulla robotica perché mi ha dato questa idea di location personaggio slash location che è diventato email tra parentesi dandomi anche la possibilità di accedere a un'idea di location dinamica anche perché email all'interno del fumetto gli succedono svariate cose per cui cambia configurazione ecco questo penso poterlo dire senza fare troppi spoiler e e questa cosa mi intrigava tantissimo dai tempi avevo analizzato molto da vicino il lavoro di fumito ueda che è un game designer eccezionale che ha progettato questo video gioco si chiama shadow of the colossus certo famosissimo playstation 2 e e c'era quest'idea di di personaggi che sono progettati come delle location no perché colossi alla fine sono quella roba lì ci sono pensati proprio cioè sono level design non sono character design non mi sbaglio proprio il protagonista durante il gioco si arrampica sui questi colossi per ucciderli se non mi ricordo esattamente esattamente quindi c'era proprio un'idea di mi piaceva tantissimo l'idea di arrivare a quella soluzione là e e quindi la tecnologia e lo studio mi hanno si sono rivelati invece avevo paura no di infilarmi in una roba super complicata che mi avrebbe allontanato da una semplicità no invece è diventato super maneggevole è diventato molto più scontato se vogliamo è anche un po stupida la tecnologia che è stato email e mi piace per quello c'è nel senso che è molto meno come dire sconvolgente no di quello che vediamo appunto nel mega design giapponese dai settanta in poi sembra tutto molto razionale no e questo mi intriga molto anche per la logica secondo me con cui poi email è progettato e email viene da un paese in particolare cioè ma non è un robot che ha la sua nazionalità ed è bello anche che il meca design che ho utilizzato per disegnarlo è quella dei mezzi militari di quella nazione paese quindi ad esempio anima che un altro personaggio che appare all'interno del libro disegnato in maniera molto diversa perché ho provato invece a ragionare col design del nostro paese quindi mi sono proprio divertito si vede si vede un sacco io personalmente mi sono divertito un sacco a leggerlo a a fissare le pagine sarà insomma guys machine una storia che si svilupperà in tre volumi a differenza di tutti gli altri tuoi tutti i tuoi titoli golem astro gamma monolith quindi ti chiedo quando è che hai capito che questa storia avrebbe avuto bisogno di così tanto spazio e anche di così tanto tempo per essere realizzata perché io sono un po uno specialista della di un'idea di lettura a più livelli dell'immagine che avevo utilizzato con molta attenzione su golem e golem aveva un approccio radicalmente diverso da guest machine perché partiva dall'assunto che i personaggi avevano una bidimensionalità schietta dal punto di vista di scrittura erano pensati un po come delle figure sacre all'interno di un'opera d'arte bizantina cioè in cui le due dimensioni servono a far brillare i concetti che stanno dentro i personaggi piuttosto che la loro storia da un punto di vista emotivo individuale non hanno non sono personaggi a cui ci si affeziona facilmente personaggi di golem sono più persone sono personaggi che hanno un ruolo sono dei castoni all'interno di un sistema no simbolico quindi tanto mi era chiaro no che si poteva fare in un libro quella cosa tanto mi era chiarissimo che se avessi voluto sviluppare i personaggi avrei avuto bisogno di una eternità ok di una miriade di pagine in più e quindi quando mi sono messo a scrivere guest machine che invece è una storia relazionale profondamente relazionale fatta proprio di relazioni umane e di evoluzione proprio personaggi sono pensati per cambiare di continuo ecco è ovvio che ti devi prendere il giusto spazio giusto tempo in più sono un autore che non ha nessun tipo di riguardo nei confronti dello spazio occupato dei disegni non amo i fumetti con 3000 vignette per pagina mi sembrano sempre un po' delle occasioni sprecate tranne ovviamente in quei casi in cui la cosa funziona meraviglia ovviamente ci mancherebbe pieno di capolavori del fumetto strutturati così però mi piace proprio l'idea di prendermi il mio spazio con i disegni col colore e quindi il ritmo narrativo dei miei fumetti è veloce c'è la scansione delle pagine come dire scorrono scorrono veloci e geist poi c'ha tutta una serie di dispositivi per rallentare la lettura però nella fattispecie è sicuramente se lo paragoniamo ad esempio a un fumetto a colori francese e credo che si possa definire un libro che si legge al doppio esatto della velocità e quindi no avevo bisogno di tante pagine quindi era una cosa bettata diciamo dalla volontà di sviluppare meglio questi personaggi quando quando hai pensato la storia essenzialmente poi sai una cosa banalmente anche per spiegarti questa roba meglio anche del dei disegni i disegni hanno un una caratteristica di geist questo libro è un libro che ci proietta in un mondo molto preciso ci dà un sacco di informazioni su come funzionano tanti aspetti tra vita dei personaggi in questo nuovo mondo ci spiega un sacco di cose anche di momenti diversi della storia ma non c'è una didascalia che è una c'è proprio una riga di testo che non sia nei dialoghi e tutto il resto è affidato ai disegni quindi i disegni hanno bisogno di quel tempo ok di essere di funzionare di quello spazio di quel tempo proprio perché io adoro le opere sequenziali che riescono a non usare la didascalia come mero dispositivo per l'integrazione ecco mi piace la didascalia utilizzata ad esempio in maniera olistica no c'è quando il testo nella didascalia dice tutt'altro rispetto a quello che stai vedendo ma veramente tutt'altro quando è un'aggiunta un sottotitolo un una nota no a margine quella roba lì mi stanca un po' specie nelle robe di fantascienza perché tutta roba che quando la leggi viene a dire ma perché non me l'hai fatta vedere invece di farmela leggere quindi a meno che non è un dispositivo faccio un esempio ecco eclatante di un cartello scritto che io invece accetto di buon grado è inizio blade runner no scritto la scrittaccia proprio che c'è in testa il film è fantastica perché in combinazione con quel primo shot sul mondo c'è blade runner non è che usa quel cartello per dire va così almeno non dobbiamo far vedere nulla è il contrario c'è blade runner ti dà un piccolo pezzetto di storia che ti manca cioè ti dà la terminologia alla fine cioè dice cosa sono i nexus 6 e poi però ti butta in quell'inquadratura ti dà gli strumenti per capire quello che stai per vedere sì non ti nascondo che ho il dubbio cioè questo me lo porterò probabilmente nella tomba perché non non lo trovate nessuno sono abbastanza manico su questa roba non ho trovato mai un testo che dice abbiamo tolto delle scene e quindi abbiamo dovuto mettere quel cartello in testa non lo saprò mai questa roba io credo che in realtà sia una scelta molto in realtà portarevole consapevole e tra l'altro se hai finito la domanda se hai finito di come no prego prego scusami anzi mi sono dilungato vai no abbiamo scusami abbiamo visto che guys machine tra l'altro è stato realizzato interamente su su twitch tu hai descritto questa cosa in una maniera molto bella come se avessi proprio aperto le porte della tua bottega su sulla strada prendo quindi tutta la lavorazione del libro ai ai passanti e disponendoti anche in maniera molto più netta anche al al pubblico e sommariamente ti chiedo che tipo di esperienza è stata nel bene nel male ma molto bene moltissimo bene è un bene che che passa per almeno cioè diversi aspetti cerco di elencarli tutti rapidamente uno noi quando facciamo i fumetti ci tappiamo in casa noi autori fumetti specie gli autori fumetti che hanno uno stile grafico intenso che hanno una foliazione una deadline da raggiungere che non sono proprio comodi questo significa sparire dal mondo ma sparire dal mondo anche in termini di ti faccio un esempio banale a me fare un post sui social network anche se devo proprio perché non ne faccio di frequentissimo mi costa un sacco di tempo immagina devi realizzare poi ci devi pensare poi scrivi il post poi ci ripensi 20 volte io non sono affatto immediato su questa roba qua ci metto tanto è più le volte che cancello il post se non lo faccio alla fine perché dico non c'è chiara questa roba non viene bene e quindi preferisco non fare un post una roba comunque mi leva la pelle ok banalmente e quindi quando fai i fumetti se hai poco tempo per per farti vedere poi tendi un po a sparire ok quindi non solo nel fatto per il fatto che non esci di casa ma anche per il fatto che poi anche sui social network hai poco da far vedere generalmente si preferisce no non far vedere le pagine complete prima che il libro sia pronto è bene che quelli restino strumenti dell'editore no in modo tale che quando il libro sta per uscire possa creare un po di effetto di sorpresa no anche quello che sta uscendo fuori paradossalmente twitch è interessante perché nonostante io faccia esattamente tutto il libro online anche le persone che mi hanno seguito praticamente tutti i giorni perché ci sono alcune persone che voglio molto bene però si sono veramente accollati la visione dell'intera produzione del libro comunque non riuscivano a capire che il libro sarebbe stato cioè perché vedi talmente una porzione perché non è che puoi stare tutto il giorno a guardare lo schermo guardi un momento ogni tanto lo senti un po più come la radio no la usavano loro infatti twitch più per la chiacchiera per la chat no il libro è stato comunque una sorpresa per tutti quindi da un lato ho avuto il vantaggio che io potevo avere un contenuto che mi teneva visibile no al resto del mondo tutti i giorni sul mio lavoro e contemporaneamente non ho tolto gli strumenti dell'editore anzi ne ho dati un sacco perché l'editore era molto contento che stesse su twitch ovviamente mi sono messo su twitch dopo ci siamo accordati su questa cosa abbiamo fatto un po una scommessa no per vedere che succedeva e quindi da un lato come dire mi ha aiutato in termini di comunicazione quindi questa è la prima cosa fondamentale due ha creato un pubblico completamente nuovo perché su twitch non ci sono i miei lettori abituali su twitch c'è un mondo di lettori completamente diverso che si è proprio formato da twitch e la cosa che mi ha colpito durante le prime presentazioni che ho fatto del libro e che quando mi sono preso la briga di chiederle spesso a tutti come hai conosciuto questa scena e parliamo di un 30 40 per cento dei lettori veniva da twitch quindi e io non me l'aspettavo proprio eh sì però perché non è la mia generazione quella che sta su twitch quindi io mi aspettavo di essere un po come dire una mosca bianca stavo lì facevo la mia cosa e invece devo dire che i risultati sono stati impressionanti peraltro io facendo delle live molto lunghe perché le live durano 12 ore 13 ore al giorno sono una roba folle eh perché lavoro tutto il giorno e tutto il giorno sto su twitch io non ho una media alta di spettatori sono sempre 50 60 di media scusami no 50 60 scusami eh 30 40 di media perché eh chiaramente su 13 ore è impossibile come dire che ci siano più persone almeno col mio eh reach da un punto di vista social insomma quello riesco a raggiungere e quindi davo per scontato cioè nella mia testa si era formata questa idea che la mia community twitch erano alla fine 30 40 persone no? invece poi eh no mi sono reso conto che in effetti contano molto di più quelli che venivano tutti i giorni magari anche per 10 minuti 20 minuti a vedere come stavano le cose e e quelli sono 6 7 mila persone e di queste 6 7 mila persone una buona parte di queste persone è arrivata eh ma anche di più in realtà ora che ci penso e e di queste persone una buona parte è arrivata a comprare il libro quindi eh ha fatto una certa differenza soprattutto sul sul lancio iniziale devo dire che la risposta è stata veramente violenta all'inizio in termini di acquisti è dato di solito su Amazon in 24 ore insomma molto bene quindi due quindi eh ovviamente quindi il pubblico nuovo e quindi eh conseguentemente la community che si è creata attorno al libro la community che è una community di eh di persone ripeto che non avrei mai raggiunto in un altro modo e che ha potuto sviluppare un una consapevolezza sul libro che ovviamente li rende dei super lettori no? Io lo vedo ad esempio come rispondono nella chat quando qualcuno fa qualche domanda qualche m'ho arrivato su Twitch e le cose rispondono loro prima di me con una perfezione no? Una competenza incredibile quindi la community è una roba meravigliosa eh con cui posso scambiare idee parlare eh è un'esperienza proprio bellissima molto divertente da un lato eh ovviamente ti espone in una maniera clamorosa io all'inizio devo dire che quando ho cominciato a lavorare su Twitch stavo un po' con la camicia gelata no? Non avevo paura a parlare avevo paura a rispondere e spesso e volentieri la gente su Twitch arriva dietro un nickname misterioso non sai quanti anni hanno non sai se stanno ti stanno trollando non sai se sono seri non sai questa roba qui eh mette un po' un po' prevenuto magari beh sì no più che altro è spaventoso perché dici vabbè adesso qua io dico una roba che non stanno in cielo o in terra e chiudo la mia carriera perché mi prenderanno in giro tutti per sempre no? Per quello che ho detto quindi ti impone una presenza di spirito grossa quando maneggi no? La chat di Twitch e però poi piano piano ci fai l'abitudine eh smetti anche di fare certe stupidaggini tipo stremmare la tua posta è capitato un paio di volte per rompere di botto la live mi rendevo conto magari passavo da una finestra all'altra dico ah cazzo lo sto stando esatto quindi è capitato un paio di volte che ho fatto un paio di gaffe micidiali e però ecco sono cose che si imparano col tempo poi diventa una come dicono gli inglesi second nature quindi vai avanti tranquilli quindi viene istintivo a un certo punto sì sì quindi eh questo è un fatto importantissimo alla community e e poi però entriamo invece su una serie di cose che erano un po' più difficili da intuire una in particolare mi sento di dire che è sicuramente ah banalmente esattamente come dicevo prima ci tappiamo in casa lavoriamo dieci ore al giorno al nostro lavoro il nostro libro con un lavoro matto e disperatissimo però proprio per il fatto che ci tappiamo in casa salta un po' il patto eh come dire di convivenza sociale delle modalità in cui dovrebbe stare al mondo e ti abbrutisce un po' no saltano un po' il rapporto con gli orari diventa tutto un po' incasinato e devo dire che twitch in questo senso mi ha dato un po' l'idea di avere degli orari di lavoro come fosse un posto di lavoro pubblico appunto no cioè di andare la mattina tirare sulla serranda del mio negozio andare dentro fare il mio lavoro alle alle sì poi all'una pausa pranzo poi si ritorna dopo si lavora poi break per la cena se c'è bisogno si continua quindi è una roba poi per carità eh ti sto dicendo che cercavo di avere un un rigore ma questo rigore poi se vai a vedere live sono che ci sono sono più giorni che ho lavorato fino alle due di notte che che quelli che riuscivo a staccare per cena è così però il lavoro era tanto e c'era poco da fare esatto però già mi ha dato una regolarità un'idea del fatto che mi dovevo comunque presentare a fare il mio lavoro tutti i giorni che quando lavori da solo soffri di più cioè è una roba su cui devi metterci la testa di continuo con twitch diventa un automatismo ed è una cosa bella perché ti ti toglie un peso paradossalmente ultima cosa che mi sento di dire e questa secondo me è quella che poi veramente mi interessa come artista volendo essere un po' egoista senza pensare agli altri a cui voglio invece benissimo perché se dovessi fare appunto un discorso da vero artista egomaniaco devo dire che la cosa che mi ha veramente sconvolto di twitch e che proprio non mi aspettavo per nessun motivo al mondo è che twitch ha alzato la qualità del mio lavoro cioè lavorando davanti a un pubblico io mi sono trovato a dover avere la migliore risposta no ai miei quesiti creativi no cioè dovevo essere in grado di fare meglio che potevo perché non c'era è come dire mentre normalmente avrei disegnato delle cose anche magari a tirare via con l'idea di dire ok questa cosa poi la ripeto dopo questa cosa magari trovo un modo di girargli attorno quando sei davanti a della gente che ti guarda ti rendi proprio conto che quello è il momento di fare la cosa migliore qui e ora senza rimandare no ed è una cosa nicidiale perché alzato sono il mio tasso tecnico in maniera drastica è molto interessante quindi parlavi prima di scommessa diciamo che possiamo pure dire che la scommessa è stata vinta abbondantemente bene benissimo hai hai citato roma perché si guys machine è ambientato a roma però la cosa interessante è che quasi non si capisce cioè non c'è un non c'è un come dire il colosseo distrutto cioè questa è una cosa che personalmente ho collegato a addirittura c'è questo palazzo una delle primissime pagine un palazzo con il il logo della quella che sembra essere una playstation poi piacerebbe capire come c'è finito questo questo palazzo con il logo della playstation sopra questa è una cosa che ho collegato a una cosa che ho letto in un'altra tua intervista in cui dicevi che ti intrigava molto l'idea di non rendere palese eh l'origine del dell'autore se non mi sbaglio dovrebbe forse un'intervista per per Repubblica se non mi ricordo male ehm mi piacerebbe molto capire questa cosa qua e perché appunto l'idea di mascherare Roma sì sì no ma guarda a me eh intriga il fatto che eh a me quello che interessa di Roma è che so che ho un potenziale narrativo che serve a me no ma questo libro non serve niente a Roma cioè è Roma che serve a me è Roma che serve a me in tutte le sue eh caratteristiche ma io non non mi sto interessando di Roma per le sue eh attrattive turi attrazioni turistiche non so come dire è un eh è un libro che mi serve perché Roma è un posto che conosco a meno a dito no per il discorso che ti dicevo prima sull'idea di partire dalle location no Roma è una location che conosco alla perfezione che è enorme complessissima ok che offre una quantità di possibilità eh spaventose da un punto di vista narrativo la civiltà antica arriverà a un certo punto all'interno di guest machine perché eh a un certo punto come dire esiste un momento di viaggio e e questo viaggio attraverserà Roma e quindi di Roma vedremo eh tante civiltà schiacciate in un relitto ok da quelle che sono già relitti su Roma a quelle che ancora non lo sono e e quindi eh boh mi intriga anche per questa cosa qua cioè che Roma comunque è un colabbrodo no di di storia di tecnologie e di scusami di ehm civiltà che si sono stratificate no nei secoli e per una storia strutturata appunto su eh l'idea di una civiltà eh finita no Roma è banalmente la perfezione da questo punto di vista eh dall'altra parte ehm mi intriga molto tutto anche ma sempre intrigato quest'idea del fatto che noi quando perdiamo il Colosseo no abbiamo ascoltato che è un è stato uno spazio no di intrattenimento ma come dire potrebbe tranquillamente essere un relitto di una storia no cioè nel senso eh perché lo sappiamo no che viene da lì però fra dieci mila anni se venisse cancellato tutto quello che c'è di scritto sul nostra civiltà eh magari cioè esattamente come noi ci interroghiamo sulle piramidi e ancora oggi diciamo aspetta forse sono una roba che vedete un altro pianeta che fa molto sorridere però eh questi ragionamenti sono possibili proprio per la distanza no per la mancanza di documentazione per i ponti che si sono spezzati no tra noi e quei soggetti misteriissimi di cui non capiamo non capiamo minimamente la funzione ehm e quindi no eh Roma eh è in questo senso un un set perfetto no per fare questo tipo di gioco di prestigio poi dall'altra parte mi mi sento anche di dire una cosa che da romano Roma somiglia molto di più al quartiere San Paolo Stienze che ho illustrato fino adesso eh in Geist Machine che non ai fori imperiali cioè eh eh Parigi probabilmente somiglia molto poco agli Champs-Élysées e e alla Torre Ferre Parigi è anche tutto tutti i suoi quartieri periferici dove la gente poi vive veramente no? Allo stesso modo Roma anche in Golem no? Eh ehm mi è stato detto spesso ah ma come mai hai preso delle zone di Roma che non sembrano Roma sono assolutamente le zone di Roma che li siedono in Golem e da ehm cittadino di Roma da abitante di Roma ti posso assicurare che lo Stienze è riconoscibile che via Calure è riconoscibile in Golem ci sono proprio degli spazi che ti vedi da ehm chilometri sono quelli c'è via nazionale ci sono un sacco di spazi arcinoti anche Astro Gamma perdonami se si interrompo mi sembra che sia proprio dichiaratamente certo perché perché è una location che conosco cioè io eh francamente trovo anche eh un po' un suicidio io vedo molti no amanti esempio del manga che abbi che ambientano la loro storia nella scuola giapponese con l'orologio quelle cose lì che si vedono nei manga però poi cioè noi non sappiamo niente di quella roba lì cioè è molto difficile poi essere precisi entrare in profondità di un mondo che conosciamo così poco quindi sebbene il linguaggio del manga ad esempio può uno è bene che se lo studia eh lo utilizza anche con con profitto eh però le location magari possono essere completamente delle altre alla fine noi siamo cresciuti leggendoci fumetti che si svolgono ognuno nel nella propria città d'origine no? Pensa supereroi americani non so New York Manhattan eh eh Los Angeles e se prendi il Giappone hai suoi luoghi giapponesi no? Quindi io non capisco per quale motivo noi non dobbiamo fare lo stesso quando decidiamo anche di fare fantascienza quando decidiamo di fare anche fantastico quando perché oltretutto cioè mi sento anche di dire che in Italia ci abbiamo dei posti che cioè pensa solo a Bomarzo cioè ci sono dei posti che sono o a tutta la mitologia fantasy folk che c'abbiamo fra Sardegna Lazio insomma voglio dire c'è veramente da impazzire quindi io non c'è troppa roba da dire qua per per lasciare questo posto prima che che lo faccia qualcun altro lo voglio fare io. Non mi hai risposto non mi hai detto come c'è finito il logo della PlayStation su un palazzo. Ah il logo della PlayStation su un palazzo. A Roma come in tutte le città ci sono comunque degli spazi espositivi no? Che di comunicazione che sono in cima agli edifici no? Quindi le segne luminose o eh i cartelloni pubblicitari quindi l'idea di base era quella di eh mettere in uno degli edifici eh di Roma che ha questo tipo di configurazione un un oggetto che mi interessava perché mi serviva a sintetizzare nella maniera più rapida possibile la fine della civiltà e per me eh PlayStation è interessante perché è un è un brand che ha il suo croceria tanti aspetti che sono banalmente eh il capitalismo nel senso no del di come funziona il nostro sistema economico no? Cioè rappresenta l'industria in qualche modo che funziona no? Eh dall'altra parte rappresenta il tempo libero lo svago l'intrattenimento che nel mondo di Geist non c'è più. E in questo senso mi sento di dire eh che è molto a che fare anche con la cultura perché probabilmente l'umanità intesa come civiltà e cultura sono nate nel momento in cui l'uomo ha avuto tempo di potersi prendere del tempo libero no? Cioè se no non ti metti a scrivere una poesia se devi scappare dall'integria denti a sciabola no? Hai altri problemi. Quindi eh in Geist Machine la storia comincia proprio con quest'idea che non c'è requie no? E' una delle cose più belle eh che si avverte eh nel belle intendo dire non belle in senso formale estetico quello lo deciderà poi il lettore. Dico però una delle cose più positive ecco scusami il termine che mi mi sfuggiva e che che io ho cercato di far sentire al lettore nel Geist Machine che a un certo punto i protagonisti trovano un momento di eh tranquillità no? In cui riescono a parlare anche di cose che non sono di di primaria necessità no? Non si tratta di capire come sopravvivo fra cinque secondi ma ad esempio il loro modo di vedere i sogni o eh il rapporto che hanno con la loro famiglia no? Questa roba qui che fa parte di quei momenti in cui non devi scappare no? Nicolare su quest'ultima. Quindi proprio PlayStation ha un significato per certi ecco per farti un esempio eh di un fumetto stupendo di due fumetti stupendi eh che sono Akira e Okutono Ken in entrambi i casi in in Akira c'è questa immagine scritto bank gigante c'è questo insegno di una banca che si si distrugge quando finisce il mondo e in Okutono Ken comincia con questi punk pazzi che girano con le moto che fanno assaltano una famiglia li uccidono tutti e buttano via i soldi no? C'è questa immagine di loro che aprono la valigia con i soldi che vanno al vento e loro dicono mi pare letteralmente ci volevamo il culo con questi non servono a niente no? E eh diciamo eh per me eh era interessante anche tirarci dentro questo concetto della cultura di massa la cultura l'intrattenimento e contatto per far capire che non si scherza più ecco non mi era più chiaro possibile. Un altro tema che è molto predominante che per lo a me ha toccato molto in particolare in due momenti che poi ti ti racconto è il rapporto fra l'uomo e la natura la natura che proprio nell'immagine che dicevo prima di questo albero che lacera il robot appunto si si vede in questi due momenti in uno di forte contrast se vuoi che è quello in cui i due protagonisti Sol e Len perdono i genitori in un'immagine bellissima che forse è una delle mie preferite del fumetto con questo questo branco di lupi bianchi che sembrano sembrano una massa unica sembrano una una creatura unica mi è piaciuta veramente molto e invece molto più conciliante che è una delle immagini più belle quando uno dei due viene avvicinato da da un passerotto e si parlano gli dice proprio chip sì una cosa molto molto bella e ti chiedo se se per te questo è un tema molto importante quello del rapporto fra l'uomo e la natura se vuoi buttarci dentro anche l'ambientalismo insomma sì allora guarda io su questa cosa qua sono un definirmi un ambientalista come dire secondo me è un po' un problema perché ti spiego poi ci arrivo al punto in cui è importante la natura ovviamente ovviamente io ho a cuore perché è l'ambiente ma ce l'ho molto di più per il fatto che in un ambiente che non funziona finisce la specie umana cioè la natura se ne sbatte dell'uomo che quando si dice bisogna salvare la terra bisogna salvare la natura la natura ci passi come un rullo compressore cioè se uno si è letto leopardi cinque minuti lo capisce che noi siamo laggi in estra siamo un fiorellino sul bordo di un vulcano no quindi come dire se non è a cuore a noi no ma il tenere viva la nostra specie di sicuro non è a cuore della natura ok la natura noi siamo oltretutto nella natura gli esseri umani sono il frutto della natura tutto quello che costruiamo è naturale tanto quanto può essere naturale il guscio di una di una conchiglia insomma di un mollusco sono oggetti che hanno nascono con dei processi che di trasformazione di sostanze che sono assolutamente sempre comunque naturali non c'è nulla che non sia naturale ok quindi il problema è che la nostra specie ha una specie di desiderio di morte e questa cosa qua non va bene per niente non è molto intelligente da questo punto di vista oltretutto abbiamo capito che siamo in grado anche no di prevedere con una certa precisione certi certe conseguenze sistemi complessi il nostro nobel per la fisica di quest'anno no cioè proprio ci dice quello ci dice ragazzi i sistemi sono complessi bisogna affidarsi alla scienza certe cose succedono come dire in una maniera che sono non bisogna affidarsi alla scienza ciecamente bisogna utilizzare in maniera critica la scienza come i veri scienziati fanno e quindi come dire è un è un argomento quello dell'ambiente che ha molto più a che fare nei miei libri con come l'uomo decide di sopravvivere no piuttosto che con l'uomo decide di curarsi della natura viceversa la natura va avanti no la natura prende e distrugge una macchina militare indistruttibile col tempo no prima o poi quell'albero da quel da quella lampiera ci passerà no c'è un po quest'idea dell'inesorabilità no della natura da questo punto di vista e ed è una roba che mi porto dentro da sempre e come progettista come designer no uno deve sempre tenere conto della deperibilità di quello che progetta ma ad esempio essendo cresciuto su una vicino a una cioè la mia famiglia ha una provenienza di questo da questo paesino di mare che si chiama una parte mia famiglia proviene da questo paesino di mare che si mette raccina e ed è un posto dove ad esempio per dire che da piccolo rimanevo scioccato dal fatto che tornavo l'anno dopo e le cose che lasciavo lì le trovo distrutte dalla salsedine no tutte arrugginite quindi l'idea del dell'impossibilità alla fine poi dell'uomo no di di riuscire a fare a meno di dover fronteggiare no proprio la decadenza di depedimento delle cose che costruisce è una roba che c'è nel dna proprio quindi diciamo ad esempio anche la tecnologia che si vede in gas machine quella che c'è è completamente sporca distrutta anche quella diciamo che è manutenuta che si vede a un certo punto all'interno di guys è comunque una tecnologia andata sempre non troverai mai nelle cose una tecnologia immacolata e parlando invece a livello di disegno fatto caso che partendo da già da golem e poi monolith time is out of joint e anche in gas machine hai mantenuto e se vuoi anche molto più implementato soprattutto in gas machine si si vede molto questa cosa cioè di come strutturi ecco il design delle tue pagine della maggior parte delle pagine di gas machine ovvero questa tavola centrale che se vuoi fa un po da 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 teatro diciamo a cui poi se ne sovrappongono altre più più piccole che danno magari un punto di vista diverso piuttosto che un dettaglio in particolare della della vignetta o della scena perdonami quasi tra l'altro molto bella perché è quasi come se fossero sospese come se galleggiassero su sulla sulla vignetta principale diciamo vien da dirti da dove nasce questa questa scelta perché ti la trovi un'idea un approccio efficace poi dicevi parlare anche prima del del ritmo della storia esatto allora c'è un sacco di motivi uno diciamo di carattere puramente di economia dello spazio cioè nei fumetti quando uno fa una scuola di fumetto ti insegnano che c'è questo shot fondamentale questa inquadratura fondamentale che devi sempre mettere all'inizio di una scena che è l'establishing shot che è questo shot questa inquadratura che ti fa vedere dove si svolge la storia no generalmente è un campo lungo su una location questo campo lungo per avere il giusto respiro si ruba un sacco di spazio nelle pagine generalmente quando fai un totale di una città non fai piccolo piccolo ti prendi mezza pagina una pagina ok e questa cosa qui io non la sopporto il ritmo dei fumetti perché la trovo un lo trovo proprio un pattern che non andrebbe dato per scontato ok perché credo che invece ci siano mille strumenti per far passare il senso di trovarsi lì che ti deve dare un establishing shot con altri dispositivi ad esempio nei miei fumetti l'establishing shot generalmente è nascosto in queste se tu vedi la griglia di geist machine generalmente divisa in quattro o tre strisce a due o a tre vignette nel due o tre colonne ma queste queste pagine che tu dici sfondano la pagina hanno gli elementi fondamentali narrativi che restano comunque all'interno della griglia che è molto piccola cioè generalmente la parte diciamo che è fondamentale da leggere di queste pagine che finiscono tutto di queste vignette che finiscono tutta pagina sta sempre all'interno degli spazi della griglia come se fossero una vignetta piccola poi sfrutto lo spazio esterno c'è il margine che normalmente sarebbe bianco della tavola per estenderci sotto il resto del background nel momento in cui quel background mi permette di saltare la necessità di un establishing shot che è una roba enorme perché mi salva mezze pagine su mezze pagine cioè che rimangono disponibili invece per raccontare la storia ok uno due c'è un fatto fondamentale che è appunto la velocità da un lato e dall'altra parte l'interazione fra le vignette c'è una vignetta una pagina in Geist in cui si vede Aiden che cade da sopra Immel e Ruzzola giù e loro lo prendono al volo se tu guardi il modo in cui le vignette si parlano fra di loro è omnidirezionale la lettura possibile c'è Sol che guarda Aiden e quando tu guardi Sol torni indietro nel tempo per guardare Aiden dov'è Aiden cade lungo la diagonale di questo sguardo e questa cosa qua aumenta la fluidità di lettura operando dei processi che avvengono in una frazione di secondo nel lettore ma che creano un movimento nei personaggi nel una vitalità ok alla tavola che avendo tutti i quadratini separati tagliati con l'accetta non avrei avuto terzo motivo è sicuramente quello che avendo studiato molto da vicino un autore che per me è fondamentale in tantesi uno dei suoi fumetti è il mio fumetto preferito forse in assoluto che è blackjack di osano tezka e analizzando il modo in cui la raccontava le sue storie mi ha colpito il fatto che lui ragiona quasi un fatto per pagina cioè in una pagina lui ha un'immagine che è una sorta di diciamo atomo narrativo ad esempio entrano dei banditi in una banca e con la pistola spianata maschere sul volto e dicono fermi tutti questa è una rapina ok quando tu vedi questa immagine grande capisci che c'è una rapina poi e tante vignette piccole invece che prendono questo fatto e te lo raccontano dall'inizio alla fine cioè il tipo che va a parlare con la cassiera gli dice non fare scherzi poi c'è l'altro criminale che punto la pistola sulla gente tutti si mettono a terra e piangono compagnia bella e fino a quando a un certo punto chiudi la vigne la pagina con la cassiera che tocca il bottone cut successivo arriva la polizia e c'è un conflitto a fuoco ora ed è un altro fatto c'è una rapina c'è un conflitto a fuoco questo modo di scandire ok il la narrazione per pagina che non uso proprio sempre ma spesso e volentieri mi garantisce proprio di identificare in maniera molto chiara qual è appunto il il nucleo no di quella pagina e qual è la il fatto che richiede più spazio possibile e per questo quelle sono delle vignette diciamo che includono le altre proprio perché ti raccontano già con un disegno no cosa sta succedendo e poi se vuoi entri ovviamente nel nel vivo della questione io adoro anche fumetti che possono avere una lettura dozzinale cioè nel senso non pretendo che il lettore debba proprio guardare tutto 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 questo questa questa vignetta grande no mi permette di contestualizzare rapidamente no la lettura e quindi aumenta la facilità di lettura anche per chi volesse leggere il fumetto molto rapidamente mi piace l'idea che questo libro possa essere anche letto in maniera come dire un po' agile motivo per cui peraltro a me piace fare i fumetti in brossura e non cartonati che invece oggi obbligano a questo momento sacro della lettura mi piace che fumetti possano essere anche letti in giro senza troppa attenzione e poi magari riscoperti magari in anno dopo magari uno ci rimette mano se li va a rileggere scopra che magari c'era qualcosa in più da scoprire ecco quindi questo mi sembra ragionevolmente il terzo motivo e ultima domanda riguardante guys machine a me piace un sacco trovare delle come dire questi io li chiamo allineamenti fra il fumetto fra quelli che sono i miei due i miei due media se voi preferiti che sono il fumetto e la musica io ce l'ho trovato con quest'album dei gojira che è un gruppo death metal francese non so se con l'ultimo album che si chiama fortitude loro toccano molto anche proprio questi ambienti di di ambientalismo e ti chiedo se c'è se se tu nel lavorare ti sei immaginato cioè non ti chiedo quale quale musica quale cosa ascoltavi di più durante la lavorazione che perché credo che non essendo in live non potessi ascoltare sentivo però non sentivo solo io ok sentivano tutti che sentivo la musica perché si sentiva migliaia della batteria però che c'è un microfono vicino però non trasmetteva musica ti sei immaginato una una colonna sonora o quale potrebbe essere la colonna sonora per guys machine mi inviti a nozze nel senso che per me la musica ha un potenziale potenziale evocativo proprio visionario no cioè la musica che che piace a me è una musica che è in grado di portarmi in in mondi e la cosa che è molto interessante che oltretutto c'è della musica che ci riesce proprio a farla questa roba perché la musica essendo una roba si propaga nell'ambiente in cui siamo se è pensata in maniera intelligente da questo punto di vista effettivamente è in grado di di spostarti di darti un funziona un po come una sorta di teletrasporto no in un mondo di fantasia c'è questo disco incredibile che si chiama quoristis quadrange ep degli outecre outecre come li vuoi pronunciare che contiene questo pezzo da 58 minuti tipo che si chiama perlens sub range 636 che è un pezzo che se tu lo senti sembra più una sorta di sonorizzazione di un ambiente futuristico quindi mi capitava di sentirlo spesso perché ti ti mette ti ti senti cioè finisci detto un film di fantascienza il più bello che mi hai visto e casa tua diventa fisicamente un un'abitazione del 3000 è veramente incredibile però ecco no per quello che riguarda guest machine francamente non ho ancora ragionato mai con precisione sempre cosa che ho fatto con golem su golem addirittura mi ero divertito a a fare delle esplorazioni sonore come musicista proprio perché tu sei anche musicista sì della domenica però sì non sono assolutamente un musicista professionista però è così fammi pensare considerato il livello di ma mi vengono in mente sicuramente appunto autecre borsof canada ma anche anche fanno pensare per cose un po più moderne contemporanee perché devo dire che tutta l'estetica la musica super pulita no se vogliamo definirla un po hd ok della musica contemporanea si sposa male con geist che invece ha una logica tutta decadente sporca è un po lo fai no il mondo di di geist machine quindi per questo mi viene in mente borsof canada perché hanno questo questo senso di mi piace tantissimo anche disaster peace non so se lo conosci è un musicista di nasce come musicista di videogiochi poi è diventato un famosissimo musicista di anche di colonne sonore di film è stato notato per la sua colonna sonore di feds che è un videogioco per pc di qualche tempo fa però ecco così a pelle non mi vengono in mente altre robe chiaramente come dire ecco se mi inviti a nozze sul death metal mi viene da dirti che assomiglierebbe un po più alle primissime robe dei carcass non agli ultimi cioè quindi ricco of putrefaction più sporco possibile insomma stiamo scoprendo un passato da metallaro lorenzo anche un presente no no guarda a me la musica piace tutta mi piace tutta quanta e nel senso io vivo all'insegna di quella legge che vuole che il 99% di tutto fa schifo quindi il 99% e quello un per cento fa sicuramente bello esatto quindi come dire c'è del bello in ogni ambiente esattamente come c'è del burro torribile non toccherà neanche con un bastone in questo ambiente beh allora la prossima rilettura di Gaze Machine provo a rifarla con i carcass ricco of putrefaction dai dai scherzo non è proprio appropriatissimo però insomma sì ecco forse la scena con i lupi forse sì un po più cruda esatto parlando invece più in generale ecco noi ci siamo abbiamo fatto una chiacchierata diverso tempo fa parlando di manga il ragionamento che ne è uscito ti dico la verità mi ha proprio aperto il cervello mi ha affascinato veramente veramente tanto mi piacerebbe se possibile non replicarlo anche anche qua su youtube magari anche metterlo in un'ottica nuova visto che il periodo in cui viviamo soprattutto per il manga per il fumetto giapponese è un po cambiato cioè la visione del fumetto giapponese è cambiata molto da durante la pandemia per cui la domanda è mi sembra evidente non credo di offenderti dicendoti che il fumetto giapponese il manga ha avuto un impatto molto forte sul tuo lavoro ovviamente certo non solo quello perché so che tu hai anche un passato di lettore di metal urlant se non sbaglio di fumetto comunque francese franco belga italiano tantissimo anche liberatore pazienza però ecco mi piacerebbe capire come appunto cioè quali credi che siano ecco le unicità del fumetto giapponese anche appunto per cercare di contestualizzare il discorso oggi come magari possono essersi evolute in questo periodo di tempo so che due anni è veramente poco però se magari tu ne hai notate ecco sì allora dunque io trovo che il fumetto giapponese se può essere di grande ispirazione lo fa per la sua natura calligrafica cioè questa idea che i disegni dei fumetti giapponesi abbiano un sistema di segni condiviso al pari della scrittura per cui anche i set di espressioni facciali che sono condivisi fra vari autori viaggiano in serenità fra un'opera e l'altra senza che questi autori vengano tacciati minimamente di essere o dei copioni o di essere poco originali proprio perché c'è un'idea di sistema di linguaggio infatti il manga è fra i pochissimi cioè la differenza che esiste fra un fumetto realistico francese e un fumetto realistico italiano faccio un esempio banale o un fumetto realistico americano ovviamente c'è cioè non è che non c'è la scansione delle vignette la grandezza della pagina il rapporto del dettaglio il rapporto col testo ci sono delle cose che cambiano però non sono paragonabili assolutamente la differenza che c'è con invece un fumetto anche realistico giapponese penso al lavoro per dire di Ryochi, Kegami e Kazuko Ike su Frank Freeman io faccio un esempio banale sono disegnatori che hanno un altissimo livello di impatto figurativo e contemporaneamente non perdono la loro calligraficità la loro sintesi che pone il disegno sullo stesso piano con cui viene utilizzato il pennello o il pennino vengono utilizzati con la stessa sensibilità con cui viene scritto l'ingliogramma e quindi con l'idea che esista un modo ideale di disegnare certe cose in maniera che siano più efficienti questo non significa che ognuno possa avere la sua grafia all'interno di questo sistema calligrafico però ecco mi intriga molto il fatto che il fumetto giapponese ci dice che esiste appunto la grafia esiste il sistema disegni sono due cose diverse esiste un sistema disegni che però va compreso che non va preso in maniera come dire cioè che non è legato ai contenuti ok? è un sistema mentre invece spesso e volentieri è un sistema di espressione mentre invece quello che trovo è che funziona un po' poco di quando il manga arriva in occidente è che si confonde il sistema con il contenuto ok? e sono due cose un po' diverse cioè il come è fatto un disegno all'interno di un manga spesso e volentieri va ricercato nell'ordine in cui sono disposti i disegni che fanno parte di un sistema codificato proprio perché c'è un'idea di linguaggio molto chiara alle spalle spesso e volentieri quando vedo gli autori che in sostanza ridisegnano un disegno fanno un adattamento di una roba che è già media ok? in qualche modo e quindi diventa meta per certi versi lì trovo che ci sia un'interpretazione un po' superficiale ok? cioè appunto che si parte solo dallo stile visivo dell'immagine del manga piuttosto che di capire invece qual è la vera essenza del manga che è nella sua appunto natura calligrafica il fatto che è una struttura cifrata proprio di linguaggio un codice esatto quindi in che modo quindi il manga può aiutarci a fare i fumetti bene anche a noi nel 2022? beh sicuramente tenendo conto che appunto il manga nonostante abbia una quantità di disegni stupendi per affascinarti deve la sua enorme forza proprio a questo sistema qui ed è di quello che ci dovremmo interessare tantissimo per poi applicarlo al nostro metodo di disegno al nostro immaginario che è fondamentale che venga fuori perché è il vero ingrediente segreto di ogni disegnatore è il suo punto di vista surreale che ha solo lui e nessun altro può imitare quindi sarebbe un peccato invece che i disegnatori europei finissero per per scimmiottare il punto di vista di altri disegnatori sarebbe un errore ti ringrazio tantissimo veramente questo punto di vista ti ripeto già la prima volta che te l'ho sentito raccontare mi ha affascinato veramente un sacco quindi ti ringrazio anche per averlo riportato anche qua tra parentesi ti segnalo una cosa se non l'hai visto scusa ti interrompo un secondo no prego c'è su youtube un TED che ho ottenuto il rapporto sì e lì si parla appunto di rapporto fra disegno calligrafico figurativo occidente e oriente quindi se i tuoi spettatori vogliono follower vogliono approfondire lo lascerò poi nelle schede in descrizione perché l'ho già visto e mi è mi è piaciuto molto anche quello lì ritrovare proprio certi certi spunti certi ragionamenti eccomi ripeto mi ha affascinato veramente veramente molto ti ringrazio ancora ultima domanda se vuoi di di cronaca non mi ricordo più a quale lucca di forse tre quattro anni fa non mi ricordo più è stato annunciato la trasposizione anime di di golem anime tra virgolette ci sono degli aggiornamenti come sta andando lo sviluppo sì allora dunque l'aggiornamento è uno solo purtroppo e cioè che il film non si farà ok non si fa non si farà perché tra parentesi l'unica cosa che esiste diciamo del periodo di sviluppo di golem è proprio un promo che ho realizzato all'inizio della produzione che puoi trovare su youtube anche quello se cerchi i trailer golem visioni ah è quello che è uscito forse in occasione dell'uscita con col corriere della sera esatto ed era un piccolo test tecnico che avevo fatto per capire come si poteva affrontare la cosa ma non siamo riusciti a trovare budget necessario nonostante il promo peraltro aveva avuto anche un'ottima risposta dagli addetti del settore durante il festival di ANSI dove è stato segnalato come uno dei progetti più interessanti abbiamo vinto i Mifapitches come uno dei cinque migliori progetti europei di quell'anno purtroppo però non è stato sufficiente non è stato sufficiente perché golem purtroppo è un tipo di film che per essere un'opera prima perché sarebbe una mia prima opera come regista d'animazione avrebbe bisogno di un budget che di solito non viene dato alle opere prime quindi ci abbiamo provato fin quando è stato possibile poi ho dovuto abbandonare l'idea perché stavo perdendo tempo e dovevo raccontare altre storie c'era Geist che premeva per nascere quindi mi spiace veramente tanto perché ho preferito fare quello golem significa tanto per me mi è piaciuto tantissimo poi mai dire mai mai dire mai però per il momento è un dispiacere questa occasione persa però mi auguro e ti auguro che ci ne siano presto di nuove Lorenzo io ti ringrazio tantissimo per il tuo tempo per la tua pazienza e per insomma per tutto quanto quindi vi ricordo che Geist Machine è uscito ormai da diverso tempo quindi se non ve lo siete ancora comprato tacci vostra per dirlo come come dire io ripeto ti ringrazio veramente veramente tanto ringrazio tantissimo anche Bao e la persona di Chiara che ha permesso questo questo incontro e basta speriamo di rivederci presto in una prossima occasione ti ringrazio ancora tantissimo quando vuoi tu ciao Nicolò grazie a te ciao a tutti grazie a te